La cosa è da parte La cosa è da parte Questa è una cosa che non credo Avanti che viene l'elicottero Avanti che viene l'elicottero Vabbè l'hanno chiamato E' accanto al rai Anzi è il rai E' sopra il rai Ha preso fuoco la parte lì dove c'è il Il rai Ma non lo so se la cucina lo sai E dove c'è il chiosco Il chioschetto Il rai è un cortocircuito sicuramente non è una manichetta di incendio, quella è una manichetta normale non è nemmeno tanto piccolo è una frazione di seconda è una frazione di seconda è una frazione di seconda perché mi stavo facendo il caffè hai capito? avevo l'oblò si questa qua è una manichetta quando entra in quel modo è una manichetta questa è una manichetta dell'anticene non è una manichetta 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 non è una manichetta è una cosa così da giardino si, come mai non gli funziona? non ho capito è una manichetta no, in quel modo si, ma nemmeno arriva non è che si, certo, qualcosa fa non è che niente però stanno spegnendo dal lato di sopra dall'atterrazione se la dentro hanno bombole se vorrei venire uscire eh sì, perché non so se quella è proprio la cucina o il chioschetto perché là è la parte dove fanno del bar non ok belli fishy sono 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.